A song 14 solfeggio, let's go for it! Ok Lorenzo per quanto riguarda son patologici, fai vedere dove fai posizionare le dita sulle cordellà e re! Ok Lorenzo, per quanto riguarda son patologici, ci fai vedere come esegui la figura ritmica alle due terzine! A song 14 solfeggio, let's go for it! 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 A song 14 solfeggio, let's go for it!